Te ragazze bellissime, tre sorelle furbissime, e son tre ladri abilissime, e molte stelle agilissime, con astuzia e perizia, nel mondo sempre un uomo di fornizia, e riesco sempre a uccidere, e nel mondo a sparire. Oh oh oh, ogni gatto, oh oh oh, ogni gatto, e questo è il nome del trio confatto, son tre sorelle che ha fatto un fatto, Oh oh oh, ogni gatto, oh oh oh, ogni gatto, ecco quel punto l'ha visto un piatto, fuggendo poi con un agile scatto, occhi di gatto, un altro colpo è stato fatto! Maledetti occhi di gatto, vi avrò, e vi ridurrò in croccantini. Miscas. Insieme! Miscas. 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 E sapere che siete tanti e che veramente mi seguite da tanti anni mi emoziona tantissimo. Allora io ho aperto da pochissimo un Hack Club ufficiale. Se volete scrivermi, ci sono tutte le modalità di iscrizione nel mio sito internet e ci sarà poi una bellissima, una nostra prima, diciamo, riunione, chiamiamola così, ufficiale, credo entro il mese di novembre, ovviamente per tutti gli iscritti al fan club, quindi grazie, grazie di cuore. E una cosa che voglio dirvi è questa, allora io ho iniziato da ragazzina, ormai sono grande, ma credo di essere un po' piccola nel mio cuore, questo è perché canto le canzoni dedicate ai bimbi, perché mi dedico ai ragazzi, mi dedico ai bambini, ma soprattutto mi emoziono tanto e credo davvero che se ognuno di noi possa rimanere, possa rimanere un po' piccolo nel proprio cuore, sicuramente si affronterebbe la vita in maniera diversa, quindi io vi dico continuate a guardare i portoni, continuate a divertirvi e continuate a soviare, perché potete farlo, perché potete entrare sul magico mondo, perché questo è il magico mondo, dove ognuno di noi ha il diritto e può sognare, sempre. Grazie ragazzi, andiamo. E non preoccupatevi se la società ogni tanto ci dà un colpo di qua e un colpo di là, noi andiamo avanti, sempre, più forte di prima. Ciao a tutti ragazzi! Grazie! Grazie, grazie, grazie! Tutti insieme! Oh, 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 orchimica! Oh, 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 orchimica! Ancora! Oh, 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 orchimica! Ok! E questo è il nome del trio ou vado, un mondo è regazzato! Ancora! Oh, 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 orchimica! Ancora! Oh, 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 orchimica! E questo è il nome del mio contatto, sulle sorelle che ho fatto, ho fatto bene. Grazie a tutti i ragazzi, non posso stare sempre di nuovo, mai e poi mai, ve lo giuro. Ciao a tutti! Grazie! 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 Grazie!